La Torre Libeskin è uno dei più importanti interventi di CMB nel nuovo quartiere di City Life di Milano. È alta 175 metri ed è composta da 30 piani fuoriterra. La sua caratteristica più visibile è l'andamento curvo, riconducibile a una cupola rinascimentale. Per assecondare la forma parte della facciata è stata realizzata a gradonate. Per via di questo effetto ogni piano è diverso dall'altro. Costruire un edificio a alto 175 metri presenta delle complessità, soprattutto nella distribuzione del personale e dei materiali. Questo manufatto, dal peso di circa 8 tonnellate, è un pezzo che costituisce la corona. La corona è l'elemento di completamento della Torre Libeskin e ne accentua la curvatura, l'effetto della curvatura. Nei periodi di punta, nella Torre, hanno lavorato dalle 350 alle 400 unità. La distribuzione dei materiali avviene attraverso piani di sbarco mobili caricati con delle grue d'ili, fino a quando non vengono montati gli elementi di facciata. Successivamente si ricorre a montacarichi di cantiere. Dall'alto della Torre Libeskin e si vede tutta Milano e gli edifici che CMB ha costruito. Torre Adid, Porta Nuova Varesine, Torre Galfa, Fondazione Feltrinelli, la sede del Sole 24 ore. CMB sta davvero cambiando il volto di questa città. CMB sta davvero cambiando il volto di questa città.